Il Salento sbarca ancora una volta alla Borsa Internazionale del Turismo, vetrina di prestigio del comparto turistico in programma a Milano dal 18 al 21 febbraio. L'obiettivo è quello di consolidare le performance degli ultimi anni, durante i quali il segno più ha accompagnato tutte le statistiche nonostante la crisi economica generale. Migliorare l'offerta turistica significa anche individuare target ben precisi di clientela. Anche per quest'anno è previsto un educational tour per i giornalisti, che saranno invitati in primavera a visitare il Salento. Tutti i particolari della missione in Lombardia sono stati illustrati in conferenza stampa dalla vicepresidente della provincia, Simona Manca, dall'assessore al turismo e marketing territoriale, Francesco Pacella, dal presidente della Camera di Commercio di Lecce, Alfredo Prete e dalla commissaria dell'azienda di promozione turistica, Stefania Mandurino, che noi abbiamo intervistato. La BIT è prima di tutto una vetrina di comunicazione e di promozione territoriale, infatti coinvolge in maniera importante gli enti preposti a ciò e quindi siamo presenti in questo padiglione con lo spazio dedicato, previsto dall'assessorato regionale, sia turismo che agricoltura, ma anche con gli spazi che insieme alla provincia e alla Camera di Commercio abbiamo voluto condividere con gli operatori del territorio. Un momento importante in cui si conferma questa immagine forte del nostro Salento all'interno di questo prodotto Puglia che ha avuto un 2009 di tutto rispetto, soprattutto in confronto con il momento di difficoltà che si è sviluppato su altri territori. Noi invece ancora una volta chiuderemo i dati degli arrivi e delle presenze in crescita, anche una crescita molto interessante, per cui non si poteva non essere presente con questo prodotto che è un prodotto che sempre di più si sta strutturando intorno a tutte le risorse territoriali, paesaggistiche e umane. Per venire incontro le esigenze di questi turisti sempre più attenti, sempre più bravi a selezionare le offerte migliori. In un'ottica più generale, quali sono secondo lei i punti ancora deboli dell'offerta turistica salentina e cosa pensa anche come APT di poter fare? I punti deboli sono diversi perché il turismo è un settore talmente trasversale che riguarda talmente tanto proprio il vivere che i punti su cui lavorare sono tanti. Noi parliamo sempre rigorosamente e regolarmente di trasporti. È un nodo sul quale ancora lavorare, anche i trasporti. Più che di accessibilità forse adesso dovremo maggiormente puntare sulla mobilità perché l'accessibilità grazie ai voli sempre maggiori e anche attraverso le implementazioni che Trenitalia sta comunque facendo, l'accessibilità è molto migliorata. Sulla mobilità c'è ancora tanto da fare ma al di là di questo aspetto noi dobbiamo ricordarci tutte le volte che quando si parla di turisti si parla di target molto precisi, di persone che se raggiungono il nostro territorio e perché non vogliono genericamente il Salento, ma vogliono fare per esempio un cicloturismo, vogliono andare per cantine, vogliono poter visitare i nostri musei, cioè vengono con degli obiettivi molto ben precisi e tutto questo significa costruire intorno ai prodotti turistici corrispondenti servizi, infrastrutture, professioni, attività e proprio la costruzione dei prodotti turistici ragionando in quest'ottica che è ancora da implementare al meglio, ma ricordiamoci che stiamo in un momento anche particolare di organizzazione turistica, cioè i sistemi turistici territoriali ma anche e soprattutto nel caso specifico i sistemi turistici prodotto saranno proprio quei tavoli, quegli organismi che consentiranno ai vari attori territoriali, quindi non solo agli enti pubblici preposti ma a tutti gli altri soggetti a iniziare dagli operatori, ma anche all'associazione del terzo settore, ma anche ai professionisti, di individuare insieme che cosa vuol dire, ripeto, per esempio fare cicloturismo o per esempio occuparsi di diversamente abili che hanno voglia di raggiungere il nostro territorio ma che di fatto hanno bisogno di tutta una serie di infrastrutture e servizi collaterali.